Come lo capisco? Anche lui si era stancato di stare chiuso in gabbia. Allora! E voi spostati! Dai, lasciami passare! E togliti di mezzo, non vedi, quando sei incontrati! Muoviti, muoviti, davanti a loro! Circolare, circolare! Circolare di mezzo, forse! Avanti! Via! Mi scusi, signore. Allora, vuole toglici di mezzo, sì o no? E che come... Grazie!